va bene ragazzi dai ciao buona buona giornata da naboroi eccolo qui con la sua solida challenge la challenge naboroi ormai ribattezzata così vediamo chi la spiega fake la spieghi tu anonimara spieghi tu vai cosa in cosa consiste la challenge naboroi perché c'è uno è stato nascosto l'ho preso giucciarrone dai dai facciamo già piccoli dai vieni qua adesso la molina che l'ho ucciso fatto un altro io c'è uno si è nascosto ma chi è si c'è uno l'ho preso io l'ho messo a terra si si è nascosto non so dove si è riuscito a nascondere sotto la scala si è nascosto eccolo io ho tre kill c'è uno naboroi l'altra l'altra challenge è vedere naboroi che riesce a fare almeno cinque kill naborai ti faccio questo che ti piace a te quale è cecchino viola uh quello quanto mi piace che tanto io che faccio io nel frattempo trovo nemici voglio vado adagirsi se non abbraccio il cuore giusto io vado verso borgo aspetta andiamo muoviamoci insieme sempre chi è che mi anonimo sei tu ok uh attenzione guarda quello la fine mi spara da mille metri da mille metri qui hai sparato ecco la fine che spari ora ti ammazzo te lo immagini oh ma quanta vita ti ho fatto cinquanta macchia e tre in gioco fatto io vedi ma perché mi è stilata no 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 vedi che stillone che stillone ora c'erano gli strilloni oh ma ma conosci il mio abbiamo trovato un altro film un po' non so parlare un po' di chi dovrebbero essere perché l'avevo finito e non era andato molto scubicato ah ma io non ho ecco 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 e non mi fa anche salire andiamo a pulsare no andiamo a prendere un po' di loot io non c'ho manco ma c'hai sei hai sei aspetta che c'è il coso hai sei sei hai sei sei anonimo no cinque magari non sei me ne potresti dare uno laboroio solo uno si aspetta fammi capire come si fa io ho da schifare no e io sì ma io faccio come tu e spero se ti stessi lì tutta la mia mia non posso mai fare delle kill ma tu no sei kill mi è beato no 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 e ve l'ho sbiancato e io pillo eccolo 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 ti voglio ti voglio ti voglio no se l'ho presa io non è troppo sezio no laboroio ve l'ha lasciato proprio bello pulito pulito eh lo vuoi? eh sì certo io tanto voi hai pusciato io da lontano ve li sbianco e poi io se l'ho preso va bene va bene se lo usa sì io base trovo qualche proiettile perché non c'ho niente di cecchino? no in generale io sto pieno di colpi di busto eh no io non ce l'ho proprio ma io me li procuro pompa e R R 200 dammi un po' grazie a te che gli serve? andiamo a Borgo? tanto siamo fuori safe vediamo se sì eh sì sì andiamo in safe poi andiamo a Borgo se volete eh sì tanto andiamo belli belli sì ma tanto andate piano piano perché tanto prima dobbiamo vincere quindi tu fake poi se tu quanti vuoi hai? una oltre anche tu due no una o venite qui che ci sono i fomenti sì ma danno la vita no tu danno un shield ah ecco gli ecco i funghetti e io ne ho bisogno e c'ho le bende le vuoi? ah ma io le bende vieni vabbè quando c'è qui me la vuoi quando c'è qui che codina? mi lasciate fare un po' più che codi ho lanciato le bende lasciatemi un po' di kicker me la sto peschillando la maggior parte oh tenti ingordo 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 tengo il tutto io fisco tutti non me ne fece ahahahah forse quasi ti ce la lascio non lascio niente a nessuno così si fa dai che io non ho niente non ho niente non ho niente non ho niente non si può prendere i tentieri ah ti ricordo il cazzo che ha da un fastidio ma un po' continuo vieni qui dai che c'è vero di zampa no 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 ma guarda non si è messo uno spedamento si ho visto io ho visto io ho visto delle prete vieni qui piccola prete vieni qui da papà 8 kill 9 kill ma io non ho proiettili non posso fare un cretino che gioco con questo qua vai nabo ma nabo scappa 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 ok 3 kill eh venite a aiutarmi c'è che coi è terra arrivo io arrivo io con l'impulso devo andare a vincere anche perchè sta per arrivare un player come? si sta arrivando un player lasciami la kill cosa? 28 bianco che cos'è la morte c'è pure il coso davanti a me ragazzi ho bisogno di aiuto serio qua non sto comendo più un cazzo ok io lo sto distruggendo tanto la collezione ok dopo uno a terra aia aia arrivo palle no non ho proiettili fatto non ho armi non ho armi non ho armi non ho il vse ti porto un medico anche te non puoi alzare questo non abborare no ce l'ho il medico ce l'ho vai prendilo 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 non importa dai che mi faccio pure questo problema serio che non ho un proiettile non ho non altro devo scappare da qualche parte non ho un proiettile porca paletta di cosa? di niente proprio niente tutto zero c'ho no ma si vengono da Stark da adesso uno che viene da Stark ha i prodottini quelli sono per i prodotti ma mi hanno buttato a terra non mi hanno fatto in tempo a farmi curare merdaccia no anche i rapporti si mi stavo curando mi hanno fatto avevo zero proiettili non li potevo sparare ma perché svegliar che anche dorme? cacchio le spalle ce l'hai scappiamo scappiamo vai vai ok 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 che hai detto? io poi c'ho tre medikit ui io spero di farcela io vado in sei eh guarda va meglio fare tutte le cure possibili al mondo io vorrei mi viste dai magari andrassi un po' più grosso mi sembra una lumaca ammoscita una lumaca ammoscita ecco va bene vai a nuoto una buroia è normale che è qua vicino a questo sì ma se io non trovo qualche no sto 50 sto 50 quando arrivo a 30 ve lo faccio solo di me togli due e non porca il forno un proiettile per me qualche proiettile ok 234 quanti ne avevano proiettili questi? no no sì fatto ok fatto dai me l'avevo preso io sì 2 kg è già il mio record dai io sono 5 l'avevo preso io però eh sì mi piace questo è bello come la penso penso a me se io mi aiuto a curarvi è finito però alle kill non metto niente ma c'è il cildino? c'è il cildino per me? vai venuto al safe guarda dove è la safe dobbiamo andare ancora io lo vedo 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 36 la serata è kill l'elicottero così muore valere no non andare da solo sto andando mi nascondo di qua poi vi aiuto da qua col cecchino ok io farmi un po' per sicurare ok ma se puoi è chiaro i due che fanno più kill oppure uno solo è quello che fa più kill stiamo in 3 quindi 3 no sì 3 di 3 aspettate mi non è andata a fissare le persone quando vi aiutare vuoi un medicare di assia no è pure qui stiamo andando qui cosa è quello spartano ma sono qua storto no eccolo aglio 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 no 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 fatto fatto vengo a salvare 3 di 1 abbiamo più dai dai fermo no la stessa la ciaffa troppo lunga che stavo troppo lunga la mia è fantastica è va bene bene non so stessi qui la ciaffa si è imboscato mi ha vinto come è morto wow 17 kill è anonimo questa volta ha vinto poi la rifacciamo comunque però non si può fare un'eccezione abbiamo rifatti due cose più piccole vediamo quanti vbac mi sono rimasti sul conto guarda vi dico se li fate bastare in due io ho 1360 vbac ok dai cosa vuoi tu RDS comando ah i quanti ne rimangono per me eh penso comando è 800 quindi sono 500 500 500 ne rimangono dai tu ne hai schieno no scatenata cos'è per favore scatenata cos'è vabbè allora facciamo così tanto fare la ricarica allora facciamo così voglio accontentarvi perché siete stati bravi faccio comando regalo a Rui Rui e a e facciamo anonimo ara scatenata no comando 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 vuoi ah eccolo Alessia Lombardo mi raccomando fa la foto e mettila su Instagram almeno ok fammi questa fammi un pubblico su Instagram ok mamma va bene perfetto ok ragazzi allora adesso vado a fare una ricarica per fare un passo a taspe eccolo qua gli regaliamo il pass se volete anche voi partecipare iscrivetevi al canale e richiedeteci l'amicizia ok così faremo partecipare tutti quanti voi alla prossima ciao